Un cortocircuito tra arte popolare e pop art, icone sacre e divinazioni in formato strip, santini della domenica e accoppiamenti supereroici, Nembo Kid che precipita dentro il giudizio universale e il cruciverba, l'eroina casalinga del doppio brodo e la pornografia underground. Tutto e tutti si danno appuntamento in un sontuoso volume, collage e disegni per una vertiginosa avventura iconografica, ma anche un omaggio al fascino discreto della cellulosa Enigma di Alberto D'Amico.